ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad una puntata speciale di formula 1 notizie dove vi parlerò di cosa è accaduto questo venerdì di prove libere della formula 1 gran premio dell'austria 2020 andiamo avanti e per prima cosa vi propongo i risultati di questa sessione di prove libere 1 allora prima posizione per hamilton con un 14 e 8 gomma soft seconda posizione per bottas 151 anche per lui gomma soft tercera posizione per verstappen 154 anche per lui gomma soft seconda sessione di prove libere anche la stessa cosa vi lascio comunque entrambi in schermo prima posizione per hamilton 143 seconda posizione per bottas 145 terza per peres con una racing point che va forte quarto per betel prima ferrari con 14 e 9 molto vicino alla racing point ma per i primi tre mescole medie per betel mescola soft beh ragazzi allora conclusione di questo venerdì di formula 1 gran premio dell'austria beh dobbiamo avere in considerazione che a non ne sappiamo benzina a bordo di queste macchine e b nemmeno sappiamo le mappature quindi sarebbe troppo irresponsabile raggiungere delle conclusioni ma se volete il mio parere di quello che abbiamo visto oggi penso che la mercedes continua ad essere un passo avanti e la red bull è appena indietro se è vero quello che ha detto verstappen che c'era qualche problemino sul ala anteriore per la ferrari invece terza forza alla pare con la racing point almeno così sembra vi do qualche altro dato statistico della ferrari per darvi un'idea di quello che è accaduto oggi allora il livario a livello velocità massima con la mercedes è stato di 8 chilometri orari 326 per la mercedes 318 per la rossa rossa che almeno nelle curve riesce a tenere il passo con la mercedes allora vi racconto in modo molto simplificato come funziona la formula 1 attuale ci sono tre variabili fondamentali drag downforce e potenza a parità potenza e drag vince generalmente quello che ha più downforce questo è molto semplificato ma va bene il problema della ferrari sempre da quanto detto da mattia binotto è che sebbene la sf 1000 ha più downforce della macchina precedente ha molto più drag e meno potenza grazie alle nuove regole sul flussometro la rossa ha perso dei cavalli pensate che la sf 1000 è molto più lenta nel rettilineo rispetto alla sf 90 che l'anno scorso raggiunse una velocità massima di 327 chilometri orari contro i 318 della sf 1000 quest'anno sempre nella prova livele 2 sf 1000 che comunque meno male è più veloce almeno nelle curve beh per ultimo e come sempre vi do qualche notizia extra perché vinotto parla di molte cose ed inizio con i problemi della sf 1000 e possibili soluzioni la parola a mattia vinotto c'è stata una mancata correlazione tra il progetto e i dati in pista abbiamo spinto molto sul nostro progetto per trovare carico aerodinamico ma ciò che abbiamo prodotto si è rivelato troppo fragile in termini di robustezza aerodinamica in pista quindi stiamo provando a fare un passo indietro e sviluppare nuovamente tutto la nostra speranza è quella di portare alcuni aggiornamenti in ungheria non riusciremo a sistemare tutti i problemi ma è plausibile compiere un buon passo avanti così potremo capire dove saremo in raffronto ai nostri normali rivali beh ragazzi io meglio non dico niente mattia ha tra l'altro risposto a sebastian bettel spiegandoli a modo suo perché non l'ha preso in considerazione per il 2021 vi propongo comunque la dichiarazione di bettel in caso ve l'avevate persa mattia vinotto mi ha chiamato e mi ha detto che non ci sarebbe stato più spazio per me in ferrari ne sono rimasto molto sorpreso non c'è mai stata alcuna offerta da parte della ferrari per continuare la risposta di vinotto sebastian era la nostra prima scelta durante l'inverno ma la situazione è cambiata nel corso della pandemia è stato introdotto un budget cap più aggressivo le regole inizialmente previste per il 2021 sono state ritardate e sono stati bloccati gli aggiornamenti aerodinamici noi abbiamo dovuto rivedere la nostra posizione e l'abbiamo comunicato a seb lui si è detto sorpreso e li credo ancora oggi non sono completamente sicuro che sia d'accordo con la decisione ma lo rispetto enormemente sia a livello professionale che umano beh veramente si poteva sforzare un po di più mattia vinotto in dare una risposta alla stampa ma pare ragazzi che la ragione dietro questa mossa sia che bettel non si è voluto abbassare lo stipendio del 25 per cento come invece ha fatto le clerk questo è stato chiesto per l'emergenza kobe si dice che sia stato proprio questo ad aver fatto infuriare gli alcan per ultimo mattia vinotto ha parlato del loro accordo con la fia per la vicenda power unit 2019 aggiungendo qualche dettaglio interessante in primo luogo non vi è stata alcuna chiara violazione delle norme altrimenti saremmo stati squalificati il motivo per cui non vogliamo spiegare i termini dell'accordo è perché dovremmo rivelare cose che fanno parte della nostra proprietà intellettuale e del nostro progetto e della nostra power unit e credo che nessuno nel paddock sarebbe felice di rivelare questo tipo di informazioni si tratta di riservatezza e protezione della proprietà intellettuale beh dopo un'altra notizia ragazzi cambiamo ferrari questa volta per la red bull perché loro hanno presentato un reclamo alla fia nei confronti della mercedes per sorpresa sorpresa il das l'infrazione dei due articoli del regolamento tecnico secondo la red bull riguardano gli articoli 3,8 che dice che qualsiasi sistema dispositivo o procedura dell'automobile che utilizza il movimento del conducente come messo per alterare le caratteristiche aerodinamiche della vettura è vietato ed l'articolo 10,2,3 che dice che nessuna regolazione può essere effettuata su un qualsiasi sistema riguardante le sospensioni mentre la vettura è in movimento beh ragazzi per ultimo per chiudere vi dico che hamilton ha detto che la mercedes v11 è nettamente superiore alla v10 vi dico che bettel la pensa uguale che alonso e david bull hanno detto che ricciardo non verrà rimpiazzato questo 2020 e che sanardi rimane stabile ma sempre grave forza alex beh ragazzi allora per oggi è tutto per questa puntata speciale se vi è piaciuto date like iscrivetevi al canale come sempre ci vediamo sicuramente se tutto va bene domani con un'altra puntata di come lo chiamerò non lo deciso beh ragazzi post qualifiche grazie a tutti e ci vediamo alla prossima con un'altra puntata di formula 1 un'altra puntata di formula 1